benvenuti sul mio canale tutto dal web lasciami un like se il video ti è piaciuto e attiva la campanellina per non perderti le altre news è arrivato come un pulmine al ciel sereno l'annuncio di tiziano ferro che divorzia dal marito victor momento doloroso do la priorità ai miei figli questo è il messaggio di tiziano su instagram rivolto ai fan non posso venire in italia per il tour di presentazioni del mio primo libro ed è così che tiziano ferro annuncia la fine di un amore quello tra lui e victor allen ad annunciarlo il cantante sul suo canale instagram rivolgendosi alla sua community come sempre che sia gioia o dolore scrive tiziano consegno a voi la mia storia perché non saprei fare diversamente perché di voi mi fido da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da victor l'ho affrontata in silenzio proteggendo la riservatezza di tutti recentemente abbiamo avviato le pratiche del divorzio voi lo sapete scrive ancora il cantante ho portato avanti un tour contro il parere dei medici non avrei mai cancellato quei concerti non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo sei anni di cantare e ballare insieme questa volta però è diverso non si tratta di me e della mia salute si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità vi chiedo immensamente scusa ma adesso sono loro la mia priorità il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta mi affido al vostro buon cuore ed è così che tiziano ferro con questo post annuncia la separazione dolorosa da suo marito victor grazie a tutti